Continua e si intensifica l'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Caltanissetta per garantire maggiore tranquillità ai cittadini e alla quotidianità del comune nisseno. Nel corso dei controlli sono state verificate 97 macchine, elevate 15 contravvenzioni al codice della strada, ritirate 3 carte di circolazione e 4 patenti, identificate 175 persone, dei feriti per guida e stato di ebbrezza un 41enne e un 28enne di San Cataldo, un 21enne di Serra di Falco e un 49enne di Caltanissetta, tutti trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore alla norma. In particolare l'uomo di Caltanissetta è stato sanzionato per ubriachezza molesta e segnalato per oltraggio a pubblico ufficiale insieme ad altre due persone. Quest'ultimi, nei pressi di un esercizio commerciale in evidente stato di ebbrezza alcolica, disturbavano l'utenza e alla presenza di più persone avrebbero rivolto insulti verso i militari intervenuti su richiesta del titolare del locale.